ciao a tutti ragazzi bentornati in questa nuova puntata di bear and breakfast allora nello scorso episodio stavamo cercando di fare tutte le missioni la più difficile a quella di riuscire a fare 50.000 coin da darabarbara ma non ci arrendiamo allora rispetto alla scorsa puntata avevo un pochettino aggiustato qui per cercare di fare ecco l'obiettivo top banana non sono riuscita a fare sì votazioni ok ottimo lavoro hai guadagnato dei pantaloni ok ok non ci sono più richiesta l'abbiamo completato finalmente allora dobbiamo andare a raccogliere i lili va bene va bene va bene ultime linee così abbiamo fatto un altro and fatto ok completato andiamo a riscuotere il premio ok hai qualcosa per me si proprio qui ma che ma tu dove tu hai ho detto che hai preso le presi di nuovo non ho non importa io non ho bisogno di saperlo io penso che sia per sicuro dire che hai trovato un po' ho trovato uno dei pochi oggetti veramente rari penso che posso dire con certezza che fino a che finora hai trovato uno dei unici uno dei unico oggetto uno dei unici oggetti veramente rari non posso sentire con te ma diciamo solo che questi fili erano erano la casa di qualcuno di un ragno probabilmente qualcuno con cui non non vorresti avere un incontro durante la notte un gigantesco bozzolo l'ultima almeno questo è quello che scrivere sulla targa quando mostrare questo strano bozzolo gigante ok andiamo a consegnare questo bozzolo gigante appena in follo ecco qua e l'ho un bello che conserviamo allora crafting speciali mi sa che era esatto allora prendiamo uno posizioniamo qui un attimo da gli oggetti trovati perfetto va bene va bene va bene va bene non posso vedere la mia casa da qui letteralmente io posso I can quindi io posso vedere la mia casa da qui letteralmente in realtà è proprio qua vicino lo scrigno oh molto buono pedrine no non si può andare a gira questa è una sala chiusa puoi trovare la carotina la carotina un c'è qualcosa qui non ci sono troll qui ok 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 allora vediamo ci sono più di sotto entra qui ok ci sono le camere niente però io vado ad aggiustarlo un pochino a questo punto allora qui c'è un bagno un telecondiviso mentre qua sotto cosa c'è una caldaia non funzionante ok gli manca pure questo qui quanto pare non che in realtà serve tanto comunque allora di tutto di lettine dice che devo fare a livello 5 in quel letto un orologio ok no no mmm mmm skin skit allora possiamo acquistare ecco ecco la certonta non si può pescare ho detto non ci sono pesce mh 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 guarda qui c'è una vecchia chiesa ma c'è la faccia di un orso oh cosa mi ho trovato mh degli oggetti mh 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 Grazie. Non lo trovo scrigno. Ok, buono. La contemporanea. Ok. Ah, è mattina. Allora, è la mappa. Ok, 9.000. Per il mondo. Saudost è qui. Noi siamo più in folle quindi si collega. Va bene. Sembra che ci sia ancora un'ora di mezzo. Forse da vedere. Anche se non è detto. Comunque. Questo qua non si può rimuovere, vero? No, non ci può fare. Niente, allora. Aggiustiamo queste... Questa zona. No, così cerchiamo di coerere. Di simulare più soldini. Allora. Piano di su. Piano di su. Piano di giù. Piano di giù. Uno. Due. Tre. Quattro. Ok. Mi sembra che era il piano di... Su. Secondo piano. Piano. Ok. Questo è l'ultimo piano. Allora. Possiamo creare il letto livello 5 che ci interessava. Allora. Ok. E poi lo dobbiamo prendere ancora. Ma si può fare con calma. Allora. Letto di livello 5. Ok. Allora. Piano di giù. Piano di giù. Ok. Quindi sì. va bene allora mi direi di fare così questo qua light si e questo qua lo editiamo e questo qua ok la cassa di qua ora noi la spostiamo sto facendo arrivare 4 sto facendo arrivare qui e questo facendo qui va bene va benissimo adesso noi facciamo qui il bagno allora cosa serve per il bagno di livello alto ok l'abbiamo l'abbiamo e l'abbiamo ok perfetto e questo l'abbiamo pure fatto andiamo a vedere sempre la stanza da letto quindi mi manca uno di questo questo lo possiamo fare questo lo possiamo fare e questo di qua me ne mancano allora 7 7 8 9 va bene allora e poi facciamo questo qui va bene lo facciamo qua ok va bene facciamo cabin skill resort me ne frego ok edit va bene ok ma cosa andrà sempre a livello superiore questo di qua lo togliamo ok grazie 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 va bene